Salve di Krap, Pompifan e benvenuti in questo nuovo video di Intanto in Tailandia. La polizia arresta un uomo di 31 anni nella provincia di Chionguri per il presunto upskirting di donne tra cui circa 40 attrici e vendita online di foto e video. Upskirting vuol dire che faceva le foto sotto le gomme. Uarasak Siro Uara Uibui, chiedo scusa per la pronuncia del nome, è stato arrestato nella sua casa di Tambon Napa nel distretto di Muang di Chionguri. Ha detto martedì, tenente della polizia, tenente generale della polizia, Uara Uat Nako Bancia, commissario del Cybercrime Investigation Bureau, telefoni, una piccola telecamera a casa del sospettato, ha detto il commissario ha consigliato alle donne che indossano donne corte di stare attenti a chiunque si avvicini a loro da dietro e agisca in modo sospetto e ha finto di aracciarsi da accedere le scarpe e metto usare il telefono per scattare foto e video di Upskirt. Le vittime includevano infermiere, impiegati e studenti del dipartimento, negozi e minimarket, nonché su treni elettrici e ponti pedonali, ha detto. Il sospettato ha ammesso di aver commesso il crimine per circa quattro anni, ha scattato le foto e i video prima di andare al lavoro e ha realizzato diverse clip a settimana, ha detto il generale della polizia, Uiwat. Uiwat, prima lo ha fatto per il proprio interesse e l'anno scorso ho iniziato a mostrarle agli utenti di internet che hanno pagato una quota associativa annuale di 1000 baht per entrare nel suo gruppo ristretto. c'erano circa 40 membri che hanno pagato 1000 baht per acquistare 30 video clip speciali, ha detto. L'ufficiale, il sospettato ha negato di aver scattato le foto, affermando di averle ricevuto dopo aver scambiato grip con i membri del gruppo. Il signor Boras sa che è stato accusato del possesso di foto pornografica di minori in un barazzo per gli altri e violazione del computer crime act. Le vittime potevano controllare i clip e quindi presentare la loro denuncia con la polizia, ha detto il maggio genere del signor Uiwat. Quindi questa notizia mi ha un po' colto di sorpresa perché in Thailand e in generale non succedono queste cose. Grazie a tutti. Ciao ragazzi, buona giornata.